Tante emozioni alla palestra Toscanini di Prato dove l'Amen Scuola Basket riesce a piazzare la zampata vincente e conquistare i due punti sul campo della prima della classe. I padroni di casa cominciano la partita con tre triple consecutive, l'Arezzo dopo un time out di Coccio Evangelisti comincia ad entrare in ritmo. L'Amen è dentro la gara e con due triple di Pelucchi e Provenzal prima impatta quota 25 e poi lo stesso Provenzal firma il primo sorpasso a Maranto. Partite in equilibrio sino all'intervallo, quattro minuti dopo il rientro dagli spogliatoi i ragazzi di Coccio Evangelisti sono ancora avanti, poi una tripla di smecca. Allo scadere rompe la parità dando tre lunghezze di vantaggio alla squadra di casa, i secondi scorrono con le squadre che non riescono ad essere precise in attacco. Fornara suona la carica con la tripla del pareggio 62 a 62 a 3 minuti e 30 da giocare. Dalla lunetta Prato si porta sul 66 a 64 a 90 secondi dalla fine, poi due magie in penetrazione di Toia lanciano l'Arezzo avanti 66 a 68. Sul fallo sistemico Provenzal non sbaglia e sigilla il 70 a 66 a 15 secondi dalla fine. Dall'altra parte Arezzo commette fallo su Pacini che realizza il tiro libero ed è rapido a conquistare il rimbalzo sul secondo. Il suo piazzato da due riporta la sibe ad una lunghezza di svantaggio. Un nuovo fallo su Toia manda il playmaker della sbailunetta. Dopo il primo errore il secondo libero viene sbagliato deliberamente non permettendo al Prato di avere una soluzione di tiro. La sirena suona e l'amen può così festeggiare il successo strappato con determinazione in un campo molto difficile. Con questi due punti i ragazzi di coach evangelisti accanciano in classifica la Virtus Siena e si preparano ad affrontare due incontri casalinghi consecutivi a partire da quello di sabato 1 aprile alle 19 al Palace Portestra.